Musica Tecnici a lavoro anche a Natale sulla nuova Lecco Ballabio per consentire l'aria apertura il 10 gennaio e domani sul luogo della frana arriva il ministro alle infrastrutture Salvini E Amerate è l'unico centro in Italia per la guida dei carri armati ma ora alcuni vicini lamentano rumori sollevando anche la questione etica, gli organizzatori si difendono, siamo un museo didattico Sono in programma numerose fiaccolate natalizie su tutto il Lecchese questa sera e domani tra le più importanti quelle su San Martino, Magnodeno e Cornizzolo Buonasera con l'informazione di Unica Lecco Lavori anche a Natale per consentire la riapertura della Lecco Ballabio il 10 gennaio A un giorno dalla visita del ministro delle infrastrutture Salvini si chiarisce il quadro sulla natura della frana e sulle tempistiche perché la strada torri percorribile Vediamo il servizio Si lavorerà anche a Natale pur di riaprire la Lecco Ballabio Un giorno dal sopralluogo del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini si chiarisce il quadro sulla frana che 15 giorni fa è caduta sulla strada di collegamento veloce per la vassassina L'ipotesi che ANAS possa riaprire la strada almeno parzialmente a partire dal 10 gennaio si fa sempre più concreta Da giorni i disgaggiatori sono al lavoro per ripulire il fronte di frana e far cadere a valle tutto il materiale pericolante Operazioni condotte in parete a 150 metri di distanza dal piano viario giunte oggi a buon punto Si tratta della prima operazione di messa in sicurezza Al termine della pulizia tutto il materiale verrà rimosso e saranno approntati alcuni sistemi di protezione Che consentiranno di riaprire al traffico la strada E proprio per cercare di rispettare questa tabella di marcia gli addetti al ripristino non si fermeranno nemmeno durante i giorni di festività La riapertura sarà ovviamente condizionata Verrà installato un sistema di monitoraggio in modo da consentire il transito in sicurezza Ma anche di fermare il passaggio dei mezzi al minimo campanello di allarme Stando alle ultime rilevazioni degli esperti il distacco di 15 giorni fa era impossibile da prevedere Né stato causato dalle straordinarie condizioni climatiche dell'anno in corso È stato insomma un vero miracolo se quanto accaduto non ha provocato conseguenze peggiori Resta però un'incognita sul futuro L'Arecco Ballabio potrà tornare a essere percorsa in sicurezza Solo nella misura in cui sarà monitorata attentamente dagli enti competenti I sistemi di protezione quali le reti e valli paramassi possono solo mitigare le conseguenze di eventi imponderabili Non certo scongiurarli E passiamo ora alla cronaca Grave incidente ieri sera a Olgiatemolgora Una donna di 33 anni residente a Brivio è stata investita mentre attraversava la strada in via nazionale Per lei i soccorsi erano stati attivati in codice rosso Insomma dopo la notte in neurochirurgia e un periodo di osservazione è stata trasferita in ortopedia Dove sarà sottoposta a un intervento chirurgico La prognosi è di 40 giorni E a Merate esiste l'unico centro in Italia per la guida di carri armati Numerose le richieste ma ora alcuni abitanti della zona adiacente al campo pratica lamentano rumori e inquinamento La questione approdata in consiglio comunale con l'opposizione che punta l'attenzione anche sulla questione etica Siamo un museo didattico spiega l'associazione Apocas Quando il vicino di casa è rumoroso Ma questa volta la petizione di alcuni abitanti dalla frazione Brugarolo di Merate per chiedere tranquillità È davvero singolare A disturbare le loro giornate è infatti il continuo via vai di carri armati Sembra incredibile anche solo da raccontare ma è davvero così A Merate esiste infatti l'unico centro in Italia per la guida di mezzi cingolati Un'attività gestita da 14 anni dall'associazione dilettantistica sportiva Apocas L'area è privata, i mezzi, quattro carri armati e un elicottero sono demilitarizzati Molteplici servizi offerti Dal paintball, la guerra simulata Al noleggio dei blindati che costituiscono un museo visitato anche da scolaresche Poi ci sono i pacchetti smartbox A Natale metti sotto l'albero un buono regalo per guidare un carro armato Si legge sui social Le richieste non mancano E alcuni residenti di Via Laghetto, una decina in tutto, si sono rivolti ad Arpa e Sindaco Lamentando inquinamento acustico e sgradevoli fumi di scarico La vicenda è approdata anche in Consiglio Comunale Al centro di un question time del gruppo di opposizione Cambia Merate Rumore, problemi e anche, mi sento di dire, opportunità In un periodo come questo, in cui la guerra, quella vera, l'abbiamo alle porte Dice il capogruppo Aldo Castelli Non entro nel merito della questione etica Visto che tutte le autorizzazioni sono a norma Spiega il Sindaco Massimo Panzeri Per odore e disturbo della quiete faremo i debiti controlli Il nostro museo didattico spiega Daniele Carbone Uno dei soci di Apocass La guida del carro armato dura pochi minuti Ed è il momento conclusivo di un'esperienza complessiva In cui spieghiamo la storia di questi mezzi Il loro funzionamento Prima di provare a manovrarli Anche al Museo della Scienza di Milano c'è un sottomarino Ma non mi pare che nessuno abbia mai creato polemiche per questo Quanto ai rumori molesti, Arpa farà i suoi accertamenti Ma siamo certi di essere regola La pubblicità sui social fa parte del marketing Non la curiamo noi Ma posso assicurare che le persone che guidano i nostri mezzi Anche i più appassionati Dopo questa esperienza Si rendono conto di quanto la guerra sia terribile Successo per il docufilm Onorata Lombardia Presentato al Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate Un documento video che approfondisce il tema dell'ecomafia Anche protagonista della quinta edizione Del bando Paolo Cereda di Liberalecco Onorata Lombardia, così si intitola il docufilm Presentato al Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate Che apre il dibattito e avvia il lavoro degli studenti Che parteciperanno al quinto bando Paolo Cereda Promosso dall'associazione Liberalecco Nell'ambito della quinta edizione del bando Paolo Cereda Come Liberalecco abbiamo accolto il progetto di questi ragazzi studenti Che hanno deciso con il linguaggio del docufilm di raccontare L'onorata società che poco ha a che fare con l'onore Tanto ha a che fare con la prevaricazione, l'illegalità e la criminalità ambientale Quest'anno alla quinta edizione abbiamo scelto di dedicare il tema Su cui lavoreranno, stanno iniziando a lavorare E saranno presenti anche in questa serata tanti ragazzi Loro insegnanti sul tema delle eco-mafie Questo è uno dei temi toccati da questo documentario Che abbiamo scelto di ospitare Per far sì che diventi uno strumento di formazione Per i giovani, per i loro insegnanti che li guidano Ma anche per il territorio Presenti in sala i due studenti dell'Università di Bergamo Che hanno realizzato il docufilm Insieme a Simone Vavassori Ed è Eduard Andrei Hujala Una riflessione che parte dalla storia Ma che accende la luce anche sul presente Per noi è un onore essere qui a Gabbiate Perché finalmente possiamo fare una proiezione In uno dei luoghi più colpiti dai fenomeni Sia di mafia che di eco-mafia Perché questo docufilm vuole parlare anche di un fenomeno poco conosciuto Quindi quello delle eco-mafie, degli eco-reati E purtroppo la provincia di Lecco è stata vittima negli ultimi anni di questi fenomeni Le nuove generazioni sono escluse da quello che è la storia concrita Di tutto il percorso, soprattutto dagli anni 90 in poi E quindi il nostro obiettivo era semplicemente quello di raccontare In maniera fruibile per i giovani Quello che è l'aspetto storico Per poi entrare nel vivo dell'antimafia E della lotta e comunque dell'attività quotidiana di antimafia che c'è oggi E passiamo ora allo sport Ultimo impegno dell'anno per il lecco Che domani in casa affronta la Virtus Verona I blu celesti vogliono vincere per continuare a inseguire il primo posto in classifica Ma anche per festeggiare al meglio i 110 anni della società E per l'occasione è pronta una maglia speciale Ultima partita del 2022 per il lecco Che venerdì in casa alle 14.30 affronta la Virtus Verona Una partita tutt'altro che semplice Nonostante il terzo posto dei blu celesti è il quindicesimo degli avversari I veronesi hanno vinto cinque delle ultime sei partite Mancheranno i due capitani Entrambi squalificati Giudici e Afferson Una squadra difficile da affrontare Secondo me ha fatto meno punti di quanti ne meritasse Per questo in casa In casa ha perso tante partite che non meritava di perdere In trasferta magari invece ha raccolto quello che meritava O forse anche qualcosa di meno Perché Anomi è sicuramente una squadra forte Una squadra che ha un equilibrio Che conosce la categoria Non si inventano niente Però fanno le cose giuste e fatte bene per questa categoria E di conseguenza noi sappiamo Che affrontiamo una squadra che ci creerà tante difficoltà Dobbiamo essere bravi ad arginare queste difficoltà Per cercare di crearne noi a loro Intanto la società ha annunciato le prime operazioni di calciomercato In attesa dell'inizio ufficiale della finestra invernale Hermes Purro ha rescisso il suo contratto Ingaggiato il 23enne svincolato Carlo Martorelli Hermes è stato molto corretto Nel senso che ha un problema fisico Ed è stato operato qualche settimana fa E ha detto inutile che sto qui così E ha rescisso Martorelli Io l'ho avuto già tre anni di fila Quindi lo conosco molto bene È un giocatore che a noi serve Un buon giocatore soprattutto Che a me ha dato grandi soddisfazioni Quindi può ricoprire il ruolo di Purro Però in più ha il vantaggio che può fare anche il centrocampista Per festeggiare i 110 anni della Calcio Lecco La squadra scendereà in campo con una speciale maglia celebrativa A righe blu celesti orizzontali Ispirate alla divisa della Canottieri Lecco Dove tutto è cominciato Alcune delle maglie indossate dei calciatori Saranno donate all'associazione Live On Loose E vendute all'asta Il ricavato servirà all'acquisto E all'installazione di defibrillatori in città E sono tante le fiaccolate natalizie in programma per l'antivigilia Su tutto il territorio Ballabio parte in anticipo questa sera alle 20 A seguire domani San Martino, Magnodeno, Cornizzolo e tante altre Come da tradizione all'antivigilia I monti delle chiese saranno attraversati da scie di stelle E San Martino brillerà fino alla Cappellina Bianca E Resegone fino al Santuario della Rovinata Campo Secco fino alla Vetta del Magnodeno Saranno illuminati dalle fiaccole Anche la Ferrata Gamma 1 Il Cornizzolo fino alla Chiesetta degli Alpini Il Corno Ratti, il Moregallo E ancora il Manavello a Mandello San Michele a Pescate, Pianciresa, Malgrate E la Cappelletta degli Alpini di Vercurago In anticipo arriva solo Ballabio Parte questa sera alle 20 La fiaccolata della Baita di Bongio Alla Villa Comunale Organizzata dal CAI di Ballabio E dal Corpo Musicale Tra le 17 e le 20 e 30 Ma di venerdì Partiranno tutte le altre Organizzate dai gruppi alpini Monte Medale, Monte Resegone Chiuso e Maggianico Civate con la società escursionisti civatesi Vercurago e Pescate E ancora ci saranno le fiaccolate natalizie Organizzate dai tecnici volontari Del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Dagli amici di Luziano E dagli amici della Croce di Pianciresa La partecipazione è aperta a tutti Importante munirsi di torce Di attrezzatura opportuna per una notturna invernale Al termine mangiata in Baita Con trippa come piatto più gettonato Seguita da panettone, pandoro e vin brulè La fiaccolata è in origine un rituale religioso Che rischiara le tenebre letteralmente e simbolicamente Oggi viene utilizzata in diversi ambiti Anche laici Un esempio è quella in programma Sempre venerdì sul Monte di Brianza Qui la tradizione si colora di un ulteriore valore Due ore e mezza di cammino per attirare l'attenzione Sulla salvaguardia del territorio E sono tanti lecchesi che hanno voluto portare In Confcommercio Lecco un regalo Per testimoniare la vicinanza ai bambini Che passeranno il Natale in ospedale O in una casa famiglia Successo quindi anche per la seconda edizione Del progetto Solidale Gift Promosso dal gruppo giovani dei commercianti Tra le persone che hanno portato il loro regalo E hanno preso parte lunedì 19 dicembre Al momento conviviale Anche il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati E il direttore Alberto Riva I regali raccolti verranno distribuiti Il 23-24 dicembre All'ospedale Manzoni di Lecco E al Mandic di Merate E dopo Natale All'istituto La Nostra Famiglia Di Bosisi Oparini Ed è protagonista a Lecco La fanfara Guglielmo Colombo Dei Bersaglieri Che ha attraversato il centro città Proponendo le musiche più tradizionali e suggestive Del corpo militare Il momento clune è il cortile del municipio Dove è stata ricevuta Da una rappresentanza Dall'amministrazione comunale E da numerosi cittadini Tornano i tradizionali auguri Dei Bersaglieri Alla città di Lecco Dopo questi due anni Abbastanza difficili La fanfara comunque È sempre stata presente Sul territorio E oggi Il consueto giro natalizio Per la cittadinanza Lecchese Con passaggio Prima alla provincia di Lecco In seconda battuta Il comune di Lecco E successivamente Per le vie centrali Della città Qual è l'attività del vostro gruppo? L'attività del nostro gruppo È portare la tradizione dei bersaglieri In giro per l'Italia E anche per l'Europa Per il mondo Quindi Quest'anno È un anno poi particolare Perché abbiamo festeggiato 25 anni della fanfara E 95 anni della sezione Quindi è un anno particolare Con tre trasferti all'estero Quindi fanfara Che portano in giro per il mondo I bersaglieri In Italia sono pochissime Quindi noi siamo un fiore l'occhiello Per la città di Lecco E per l'Italia Perché la musica dei bersaglieri E il corpo stesso dei bersaglieri È tanto apprezzato Dai cittadini Dagli italiani Allora perché il corpo dei bersaglieri È un corpo d'elite E poi la musica È una musica Allegra Quindi portiamo gioia E la gente è contenta Perché è l'unico corpo militare Al mondo Che suona E corre Quindi siamo un'eccellenza Perché non ce ne sono Siamo solo noi E va in onda alle 19.50 La prima puntata della seconda stagione Del grande alpinismo Luca Schiera e Paolo Marazzi Ci racconteranno il loro avventuroso viaggio in Patagonia Per raggiungere e scalare La parete del Serro Mariposa Arriva il bel tempo Almeno sembrava così E con il punteramo a un bivio Se decidere Se Tentare di scalare Oppure Tornare a casa direttamente Questo perché Uscire dalla valle L'unico modo che avevamo era Con questi canotti Ridiscendere il torrente Oggi Ha fatto brutto al mattino Ha piovuto Adesso è uscito il sole Abbiamo visto una nuova parete Qua Più o meno Sarà sui mille metri Domani C'è un giorno di buono E proviamo a farla domani In giornata E vediamo Come sarà Abbiamo fatto dei calcoli Abbiamo deciso di provare Andare a scalare E sempre all'interno Di questi quattro giorni Riuscire anche a tornare a casa E poi Un po' prima dell'albero Ancora buio Abbiamo iniziato a fare i primi tiri Che già erano abbastanza complicati Proprio dal primo all'ultimo metro Mi ricordo che Era tutto fradicio Quindi dove c'era da scalare Si scalava Se c'era un fren da tirare Comunque la linea era in fessura Lo tiravamo Stiamo salendo Sulla via Per ora è semplice Poi vediamo Quando arriviamo Sotto la parte ripida Come sarà Com'è Lucchino? E questa era la nostra ultima notizia Buona continuazione Con i programmi di Unica TV Grazie a tutti